Sarà un 2023 da ricordare quello dell'Invicta Basket, che ha chiuso alla grande con la vittoria del derby dello scorso fine settimana contro Basket Gela. I cestisti nisseni guidati dal coach Giuseppe Spena chiudono la prima parte di stagione al quarto posto, dietro solo alle corazzate Alfa Catania, Comiso e Catanzaro. L'anno che sta per terminare sarà ricordato per sempre in casa Invicta, con la conquista del campionato di Serie D, che ha permesso alla società nissena il salto di categoria in Serie C, dominando dall'inizio alla fine e chiudendo il campionato da imbattuti. Come società neopromossa l'Invicta non sta sfigurando nemmeno in Serie C, con il gruppo nisseno reduce dalla scorsa stagione e con l'apporto in squadra di alcuni elementi importanti, Bogdan Rylands su tutti, che stanno aiutando la compaggia nissena in questo campionato. Il campionato di basket si ferma per la sosta natalizia, con l'Invicta che tornerà in campo il prossimo 7 gennaio alle ore 18, quando al pala Gannizzaro affronterà il DR Reggio Calabria, che staziona a metà classifica e dista di quattro lunghezze dalla formazione nissena.